Scuola del Cerchio Firenze 77. Dizionario del Cerchio Firenze 77 a cura di Vitaliano Bilotta. Edizioni Mediterranee. Presentazione di Luciana Campani Setti. Questo libro, realizzato in forma di dizionario, è nato per trovare subito ciò che dicono i testi del cerchio su tutti i temi dell'esistenza, dai quotidiani ai definitivi. L'insegnamento del Cerchio Firenze 77, infatti, è una griglia, un sistema di pensiero attraverso il quale tutte le vite di ogni individuo possono essere osservate nella loro matematica e progressione evolutiva. L'opera è dedicata non soltanto a tutti coloro i quali già conoscono il libro del cerchio, ma soprattutto ai tanti che avrebbero bisogno di un tale insegnamento, ma che ancora non ne sono venuti a contatto. Infatti, sebbene strutturato in ordine alfabetico, il libro si presenta anche ad una lettura continuata, grazie allo sviluppo monografico dato a moltissime voci e ai frequenti rimandi alle voci collegate. Gli argomenti affrontati dai maestri sono tali e tanti che questo dizionario si rivelerà prezioso per poterli facilmente ritrovare e leggerne la trattazione fra le molte pagine degli otto volumi del cerchio Firenze 77, in cui sono distribuiti. Ma ciò che rende ancora più utile questo libro è che, anche solo dalla lettura delle frasi più incisive scelte a illustrare certe tematiche, il lettore può avere un'idea della profondità di pensiero e della insolita prospettiva che le spiegazioni aprono sull'orizzonte di chi si avventura nella ricerca dei significati sui temi trattati.